Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ho fatto una piccola spesa da GameStop e ho preso il controller skin di UEFA Euro 2020 siamo campionati d'Europa è il campionato europeo che abbiamo vinto noi e quindi ho voluto prendere questo piccolo gadget tra l'altro in offerta l'ho pagato anche un euro in meno del prezzo che vedete qui sopra indicato e poi ho preso Spongebob Battle for Bikini Bottom per Nintendo Switch e questo qui ragazzi con questo videogame ci giocheremo presto qui sul canale ci giocheremo insieme quindi arriveranno i gameplay di questo gioco qui bellissimo, molto molto bello ma poi lo vedrete insieme a me molto presto qui sul canale e inaugurerà una serie di video proprio a tema videogiochi non solo Switch ma anche altro comunque invece questo è il controller skin di UEFA Euro 2020 ce lo vediamo subito così ci togliamo immediatamente lo sfizio allora eccolo qua controller skin per PlayStation 4 eccolo qui e qui dentro ragazzi ci sono questi adesivi qui Deutschland ossia Germania Russia che in teoria dovremmo leggere Russia France quindi Francia e poi Italia più in più viene dato anche vedete questo con la scritta UEFA Euro 2020 che possiamo già vedere qui vedete eccolo qua se metto a fuoco lo vedete meglio ok eccolo qua il controller skin ce lo siamo visto subito quindi ragazzi iscrivetevi al canale per non perdervi altri video come questi direttamente da GameStop e non solo per vedere il gameplay di Spongebob Battle for Bikini Bottom e per seguire tanti tanti altri contenuti che spaziano dalle sorpresine alle minifigure dalle action figure ai manga dal wrestling al calcio e via discorrendo qui ci sono più di 400 video caricati sul canale e tanti altri arriveranno quindi ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace condividete questo video sui vostri social network condividete questo video con i vostri amici invitati i vostri amici ad iscriversi al canale in descrizione trovate il link delle pagine Facebook ed Instagram del canale se volete seguitemi anche lì sempre in descrizione trovate i link del blog se volete fateci un salto e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video ciao belli